Di Valeria Costantini e Rinaldo Frignani un ragazzo romano, è stato ricoverato in ospedale in una prognosi riservata dopo essere stato attaccato a piazza Cesare Battisti. Canca per il pacchetto è fuggito su un'auto l'allarme, è stato attivato poco dopo le 1700 quando, secondo alcune testimonianze, il giovane avrebbe rimproverato un automobilista perché stava correndo troppo, guidando in modo sconsiderato, vicino a una fermata dell'autobus. A quel punto l'uomo ha arrestato la marcia e accento grave sceso dall'auto insieme ad altre persone che hanno attaccato il 19enne e poi lo hanno sopraffatto con l'auto prima di lasciare indisturbato.